ragazze ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati in un nuovo video io sono ovviamente simone collector e oggi vi vado a regalare i codici platinum ovviamente questi codici andranno al primo che riuscirà a prenderli quindi il segreto lo sapete qual è iscriversi e attivare la campanella così arriverete per primi su questo tipo di video vi vado a regalare i codici delle carte plus e delle carte platinum eccoli qui se vi piace il gioco online mi trovate sull'applicazione sotto il nome ovviamente di simone collector se vi va di giocare insieme a me mi potete tranquillamente aggiungere sappiate che non ho una squadra fortissima perché ovviamente regalandovi i codici è più complicato fare una squadra forte ma sto piano piano giocando ci sto prendendo la mano e quindi sto cercando di acquistare i codici delle carte direttamente dal gioco mentre questi preferisco regalarveli per voi che mi supportate sempre eccoli qui so che vi piacciono molto questi tipo di video bene questi erano anche i codici delle carte platinum che abbiamo aperto dalla team box platinum se vi siete persi il video ve lo lascio in descrizione ma lo trovate sicuramente sul canale a me non resta che salutarvi e ricordarvi che se vi va di giocare insieme a me mi potete tranquillamente aggiungere sul gioco delle adrenalin online e magari ci sfidiamo spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia servito per migliorare le vostre le vostre squadre a me non resta che salutarvi e augurarvi come sempre una buona giornata